Carl con due manubri da in piedi, esercizio classico per i bicipiti quindi questo lo troverai tantissime volte da in piedi è il modo migliore per eseguirlo per andare a bilanciare comunque anche tutto il corpo e possiamo andare a eseguirlo in questa maniera afferri due manubri, ti posizioni, trovi una posizione solida, glutei contratti e da qua parti da un atteggiamento hammer quindi neutro con i manubri che guardano avanti e da qua quando sali extra ruoti per fuori quindi giri i manubri per fuori ecco io consiglio di farlo in maniera così insieme, sollevare i manubri insieme volendo potresti sollevare anche prima un manubrio e poi l'altro generalmente si utilizza la variante alternata quando utilizzi carichi alti, poche ripetizioni per andare a lavorare di più con la forza potresti, ecco te lo faccio vedere anche di lato, mi raccomando evita di fare questo movimento ossia di portare indietro il gomito quindi fai il movimento, il gomito rimane fermo o leggermente spinto in avanti questo è il modo migliore per fare questo esercizio per i bicipiti fondamentale che lo farai parecchie volte evita di oscillare in questa maniera ok tutte le oscillazioni sono nient'altro che un modo per semplificarti la vita e lavorare meno con i tuoi muscoli quindi controlla i movimenti, ogni fase dell'esercizio per ottenere grandi risultati sulle braccia grazie a tutti